Quando vuoi, quando vuoi Piatto, questo sconosciuto, Piatto di Marcaru E' un'orchestra suona Un buon piatto può condurre un'orchestra E le spazzole, gli esistenti Non parliamo delle mani Hai capito quali sono le mani? E' una pega di lana, dei pega Ma dove si può trovare la cura di questa cosa? Alla clinica Dove? Via Ponte Seveso 27 Via Ponte Seveso 27 Milano